Che vuoi? Romina Power e lintesa ritrovata con Albano, ecco la rivelazione dellartista La cantante statunitense ha rilasciato una nuova intervista ad un settimanale. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al gossip su Cancelletto Romina Power. Ieri, martedì 6 giugno 2017, la cantante ha rilasciato un'intervista al periodico TV Sorrisi e Canzoni. Durante la lunga chiacchierata lartista statunitense ha presentato il suo nuovo libro, Karma Express, disponibile in tutte le librerie. In più ha parlato anche del suo rapporto con Albano Carrisi e di come fra loro si sia creato un particolare feeling, non solo artistico. Nonostante i due abbiano divorziato da diversi anni, fra loro c'è sempre un'alchemia speciale. Questo tutti i fan lo vedono quando i due cantano insieme sia in Italia che all'estero. E a proposito di questo, Albano e Romina sono pronti per la tournée estiva 2017 che renderà felici tutti i loro ammiratori. Si parte il prossimo 28 giugno da Mosca e ci saranno quattro date in Italia, nella capitale, in provincia di Cagliari, a Chiatie e in Romagna. Durante la lunga intervista Romina ha svelato a tutti i lettori del settimanale come ha trovato l'equilibrio per tornare a duettare con il cantautore pugliese. Vediamo cosa ha dichiarato. Romina Power e l'armonia ritrovata con il suo ex marito. Romina Power ha raccontato di frequentare da diversi anni un centro buddista che l'ha aiutata molto a trovare la pace interiore. In più le ha permesso di superare con meno difficoltà la perdita della madre e altri fatti negativi, tra cui la perdita della figlia maggiore Elenia Carrisi scomparsa nel 1993 a New Orleans. La Power ha affermato che grazie alla religione buddista è tornata a cantare con il suo ex marito e che con lui ha un legame karmico che proviene da vite precedenti. . Inoltre, l'artista americana ha rivelato che che sul palco c'è una grande intesa con Albano, che è il compagno ideale. Poi il giornalista le ha chiesto qualche dettaglio della sua vita sentimentale, Romina ha risposto così, tra un po' mi faccio suora. Il rimorso dell'artista statunitense. Durante l'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, l'artista statunitense ha parlato del suo passato. La donna ha affermato che se tornasse indietro non mandarebbe più i suoi figli in collegio e che lavorerebbe di meno per stare più tempo con loro. . Se desiderate conoscere altre news su Romina Power, ma anche avere altri aggiornamenti sul mondo dello spettacolo italiano, cliccate il pulsante Segui, posizionato in alto vicino al titolo principale dell'articolo. .